salve ben trovati a tutti eccoci ancora una volta per una nuova recensione super dettagliata dei six i del mind io sono sempre zool ed oggi parleremo di architetti del regno occidentale il primo capitolo della trilogia del regno occidentale che può essere giocata anche diciamo come una campagna quindi è veramente una una trilogia fantastica oggi parleremo appunto del primo capitolo che è quello degli architetti e andiamo ad analizzare subito i componenti di gioco e facciamo il setup allora per quanto riguarda il setup abbiamo carte ricompensa che sono queste qui che vanno a fianco alla cattedrale il numero di carte ricompensa usate nel gioco è pari a 2 per giocatore più una simuliamo una partita a due giocatori quindi mettiamo fondamentalmente cinque carte mischiamo e 1 2 3 4 e 5 carte poi abbiamo le risorse che possono essere collezionate durante il gioco anche perché il gioco è fondamentalmente un piazzamento lavoratori con ricompensa di risorse che potete utilizzare per costruire fondamentalmente degli edifici che vi danno punti tutti i punti durante il gioco sono segnalati da questi numeri all'interno di questo standard dorato quindi quando vedete questi numeri dorati fondamentalmente sono i punti che si ottengono alla fine della partita le risorse sono argilla che può essere ottenuta dalle miniere poi vedremo l'effetto di ogni luogo il legno ovviamente dalla foresta poi abbiamo la pietra dalla cava il marmo che può essere ottenuto in vari modi o nel magazzino del re o addirittura nel mercato nero e poi abbiamo l'oro l'oro anche può essere ottenuto nella miniera oppure può essere ottenuto per esempio nel mercato nero ancora abbiamo delle carte debito 22 carte debito che prenderete ogni qual volta sarete avrete una reputazione scarsa e quindi magari sarete cattivi pagatori eccetera sarete costretti a prendere carte debito e come vedete qui gli standardi dorati sono strappati che vuol dire che alla fine del gioco se avrete carte debito non pagati perderete due punti ma i debiti per fortuna si possono sempre pagare e una volta pagati ovviamente girate la carta debito e come vedete il debito è stracciato e c'è quest'altro standardo che è viola e questo dà punti reputazione quando è intero oppure quando è strappato come questi qua dorati vi leva punti reputazione ancora abbiamo le carte apprendista ovviamente noi essendo dei grandi architetti possiamo reclutare anche degli apprendisti e i nostri apprendisti ci aiuteranno ad ottenere più risorse o dei bonus particolari all'inizio del gioco si mischiano le 40 carte apprendiste e se ne scoprono fondamentalmente 8 e si mettono in questi spazi gli apprendisti sono molto carini anche nella grafica e ovviamente danno determinati bonus che poi andremo ad analizzare quando vedremo le carte apprendista ancora abbiamo le carte edificio le carte edificio formano la nostra mano di gioco e noi ovviamente possiamo costruire questi edifici quando otterremo le risorse necessarie e i requisiti necessari per farlo quante carte edificio dobbiamo avere all'inizio all'inizio abbiamo la bellezza di quattro carte edificio si fa una sorta di draft dai giocatori quindi ogni giocatore avrà quattro carte edificio dopodiché ne sceglierà una passerà le altre tre in senso orario all'avversario quindi poi ne sceglierà una seconda e una terza quindi in questa operazione di draft la quarta invece verrà scartata e verrà messa in fondo le carte scartate verranno messe in fondo al mazzo quindi alla fine la mano di un giocatore sarà fatta fondamentalmente di tre carte dopo andremo ad analizzare come è fatta una carta edificio ancora abbiamo le carte mercato nero sono dieci se uno fa hanno una doppia faccia questa del mercato piccolo e questa del mercato grande all'inizio le mischiate e mettete tutte con la faccia mercato piccolo in su qui nello spazio di sinistra vedremo poi come funziona il mercato nero e che bonus e che benefici dà ancora scegliete una vostra plancia con 20 lavoratori del vostro colore e poi avrete questi sono i vostri lavoratori e poi avrete questi due standardi uno dei vostri due standardi va qui sulla tracciato della reputazione al numero 7 che è anche segnato a un asterisco l'altro tracciato invece va in fondo alla cattedrale simuliamo una partita tra il blu e il rosso quindi mettiamo entrambi gli standardi qui e poi mettiamo gli altri due standardi qui sotto ok abbiamo visto come si vince la partita chi fa più punti ma quando termina la partita la partita termina quando praticamente si piazzano dei lavoratori qui nella sala della gilda e il numero dei lavoratori praticamente determina la fine del gioco vedete che c'è un 3 più 4 più 5 più vuol dire che praticamente quando raggiungerete questo numero di lavoratori se siete in 3 giocatori in 4 giocatori in 5 giocatori dovrete completare tutte e 4 le file arrivando ovviamente al numero dei giocatori in quel momento il gioco termina si fa un ultimo turno tutti e poi si va direttamente alla conta dei punti conta dei punti che anche ampiamente descritta qui nella vostra scheda del vostro diciamo giocatore alla fine ci sono tutti i punti che potrete avere andremo poi a spiegare tutti i simboli allora il setup è quindi completato e adesso andiamo ad analizzare le varie location dove potremo mettere i lavoratori le location sono tante potrebbero spaventarvi ma vi assicuro che questi simboli una volta assimilati sono molto 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 chiari ho dimenticato di dirvi che nel setup ovviamente il primo giocatore prende tre monete e il secondo giocatore prende una moneta in più quindi 4 monete in più si mettono 4 monete qui nel palazzo delle tasse ecco questo completa il nostro setup allora andiamo ad analizzare le varie location abbiamo una miniera vedete che le location che hanno questo cerchio aperto sono location in cui ci possono stare ovviamente lavoratori di più giocatori la cosa interessante è che queste location danno una serie di risorse che aumentano progressivamente in base al numero di lavoratori che voi avete in quella location per esempio nella miniera io posso mettere un mio lavoratore e vedete che posso avere posso scegliere se fare una o l'altra azione posso avere o un argilla più un argilla per ogni lavoratore quindi un argilla di base più una per ogni lavoratore in questo caso con un solo lavoratore io prenderei due argille per me oppure l'azione di sotto non posso farla ancora perché dice potrei prendere un oro però ogni due lavoratori che ho qui io adesso ne ho uno solo ma se ne avessi messo un altro quindi in questo posto a questo punto avrei avuto la scelta di prendere o addirittura tre argille perché una di base più una per ogni lavoratore quindi fanno tre in totale oppure invece le tre argille avrei potuto prendere un oro attenzione perché l'oro serve sicuramente per costruire edifici più importanti ma sia l'oro che il marmo sono due risorse che alla fine della partita valgono un punto quindi accumulare oro e marmo fa sicuramente bene anche per fare più punti alla fine della partita quindi così funziona la miniera stessa cosa per la cava ovviamente accumulo pietra in questo caso posso avere una pietra per ogni lavoratore quindi se ne ho una ne prendo una solo ovviamente due due tre tre e così via e poi abbiamo la foresta la foresta è la stessa cosa ma funziona per il legno vedete che c'è il simbolo del legno e poi c'è scritto per lavoratore quindi in questo caso se ne ho due io prendo due legni anche perché nel mio turno io posso fare solo un'azione e la mia azione è praticamente collocare uno dei dei miei lavoratori abbiamo poi l'argenteria stessa cosa anche qui ma è semplicemente qui invece di risorse di costruzione prendiamo monete quindi prendiamo una moneta di base più una moneta per ogni lavoratore piazzato qui e quindi in questo caso io prenderei ben tre monete poi abbiamo il magazzino del re magazzino del re è molto particolare perché praticamente potete fare un'azione per ogni lavoratore che avete qui che vuol dire un'azione vuol dire che se io avessi due lavoratori potrei fare due azioni tra queste cioè scambiare pietra legno e argilla due di queste a scelta potrei avere due argilla e due legno oppure una pietra un legno e così via per guadagnare reputazione come vedete qui oppure potrei scambiare una terna quindi tra pietra e legno quindi due legni una pietra due pietra un legno così via per ottenere il prezioso marmo il marmo si ottiene quindi scambiando altre risorse è chiaro che se avessi un solo lavoratore qui io potrei fare una o l'altra invece se ho due lavoratori posso fare sia una che l'altra o addirittura ripetere una delle due quindi più lavoratori avete qui magari avete un surplus di risorse accumulate e potreste salire quattro cinque volte di reputazione ecco se avesse quattro cinque lavoratori potreste fare quattro cinque volte quest'azione e guadagnare tanta tanta reputazione poi avete il workshop il workshop anche un luogo molto importante perché perché serve a reclutare i famosi aiutanti vedete che se metto lavoratore qui la grafica anche mi dice che devo pagare quattro monete per reclutare un aiutante di queste quattro monete che io devo pagare quelle rosse quando vedrete monete rosse sono monete che vanno non nella riserva ma nell'ufficio delle tasse si accumulano qui dentro anche perché poi l'ufficio delle tasse può essere anche tra virgolette svaliggiato adesso vedremo quando ci arriviamo la seconda azione che potete fare qui nel workshop quindi potete fare o una o l'altra è per reclutare nuove carte edificio ovviamente le carte edificio le le spenderete quindi poi potrete prenderne altre potete prenderne potete prenderne una oppure un'altra se ne avete ogni due lavoratori quindi in questo caso io potrei prendere due carte edificio una cosa interessante degli apprendisti è che voi potete reclutare solamente in base gli apprendisti che sono nei luoghi corrispondenti al numero dei lavoratori che vuol dire che se io metto un lavoratore qui vedete che qui c'è un lavoratore io posso scegliere o tra questo o tra questo se io invece metto due lavoratori potrei scegliere tra quelli della prima fila e questi della seconda vedete che qui ci sono due lavoratori e così via se ne avessi tre potrei arrivare fin qui quattro potrei arrivare fin qua quindi potrei sceglierli tutti però c'è un modo per ovviare a questa cosa per esempio se io ho un solo lavoratore ma comunque mi interessa uno di questi qua che stanno nella seconda colonna per non farmeli fregare magari quindi attendere un altro turno e rischiare che qualcuno me li prenda sotto al naso io potrei pagare monete che vuol dire che per esempio mi interessa il patrono io metto un lavoratore qui e poi piazzo una moneta delle mie sul primo lavoratore sul primo apprendista che è appunto il ladro il pickpocket metto la moneta qui e quindi posso prendere questa una volta che si prendono gli apprendisti ovviamente quelli che sono qui si scivolano e poi se ne prende uno nuovo e si rimpiazza il vuoto ovviamente chi poi andrà a prendere questo prenderà anche la moneta che è stata messa qui quindi se io avesse tante monete ma un solo lavoratore qui potrei mettere una moneta qua una moneta qui una moneta qua e prendere addirittura l'ultimo senza dover piazzare quattro lavoratori per forza e poi abbiamo la tax stand questo qui l'ufficio delle tasse se metto un lavoratore qui come vedete dal simbolo perdo due di reputazione quindi vado indietro sul tracciato della reputazione e mi prendo tutte le monete che stanno qua dentro quindi al prezzo di due punti reputazione però guadagno tante tante monete in questo gioco ci sono veramente tante tante strade per vincere potreste fregarvene di avere una buona reputazione ma usare le monete per accumulare tante tante risorse per esempio oro marmo per fare punti e compensare come vedete i punti negativi che perdete a fine partita quando avete una reputazione pessima perché voi potete anche arrivare qui e a fine partita totalizzate meno 9 punti ma la cosa interessante è che a mano a mano che scendete di reputazione per esempio da questo livello in poi questo simbolo indica che non potete più andare a costruire la cattedrale e adesso vedremo cos'è a mano a mano che scendete come vedete visto che avete una reputazione pessima ovviamente siete anche quelli che non pagano le tasse e quindi per esempio a questo livello qui ogni volta che ci sono monete che vanno nell'ufficio delle tasse voi semplicemente non le pagate per esempio nel workshop invece di pagare 4 monete ne pagate solo 2 perché le 2 delle tasse fondamentalmente se siete a questo livello di reputazione le evadete quindi non le pagate poi abbiamo la famosa cattedrale allora per costruire un edificio o per costruire la cattedrale dovete mettere un vostro lavoratore qui nella hall della gilda la cosa interessante è che quando piazzate un lavoratore qui questo lavoratore a differenza degli altri non lo potete più recuperare cioè resta lì fino alla fine della partita vedete i simboli qui su che ovviamente vi dicono che mettendo, piazzando un lavoratore qui potete giocare una carta verde cioè costruire un edificio oppure potete partecipare alla costruzione della cattedrale vedete che la cattedrale è fatta di vari piani ovviamente non tutti i piani sono disponibili per tutti per esempio in una partita a 4 giocatori vedete che la prima riga è formata solo da 3 slot e a mano a mano che si sale ovviamente il piano superiore è solamente per un giocatore vedete che a seconda di dove sta il vostro standard alla fine della partita voi guadagnate quel numero di punti ma come si fa a salire, a costruire? dovete semplicemente pagare l'effetto che vedete qui a sinistra per esempio per salire al primo livello dovete pagare un oro come vedete qui e ovviamente scartare per esempio una carta progetto cioè una carta edificio una di queste qui verdi che avete in mano ecco queste carte edificio sono limitate non ne potete avere più di 6 in mano quindi a un certo punto poi dovete scartarle o magari alcuni edifici sono talmente irraggiungibili che vi conviene utilizzarli scartarli per poi salire qui nella costruzione della cattedrale questo può essere anche un modo per fare punti ovviamente se costruite un livello della cattedrale la prima cosa che andate a fare è che vi andate a prendere una carta ricompensa una di queste ogni volta che si costruisce la carta tali si prende una carta ricompensa si gira la carta ricompensa e ottenete quello che è specificato sulla carta in questo caso vedete che c'è uno standard reputazione quindi prendete un punto reputazione e prendete una nuova carta edificio e poi queste carte si scartano quindi si mettono via anche le carte chiaramente sono limitate per numero di giocatori quindi non ce ne sono poi più di tante vedrete che alla fine anche se andate a costruire e non ci sono più carte quello che guadagnate è quello che c'è sul fondo cioè un punto reputazione e abbiamo ancora il town center quindi il centro della città e il black market a spiegare iniziamo dal black market il mercato nero a differenza degli altri luoghi della città come vedete ha dei cerchi più piccoli che vuol dire che qui ci può stare un solo lavoratore una volta piazzato lo slot non è più libero per gli altri che succede? abbiamo tre spazi a seconda dello spazio dove piazziamo il lavoratore possiamo fare l'azione praticamente di sotto se io mi metto qui posso guadagnare queste due risorse che sono evidenziate in questa carta quindi posso guadagnare un oro e un legno mettiamo che il giocatore blu invece si vuole piazzare qui nel secondo posto lui in questo caso io in questo caso pagherei per avere questo oro e questo legno pagherei una moneta e una reputazione chiaramente il mercato nero vi fa perdere sempre reputazione questo posto invece vi fa pagare due monete e perdete una reputazione questo ve ne fa pagare tre e perdete una reputazione in questo luogo ci sono ben due azioni da fare potete o reclutare un apprendista in qualsiasi posizione ecco quindi ve lo fa prendere senza tutta sta storia di avere un determinato numero di lavoratori qui o pagare le monete ma ve ne fa prendere uno a vostra scelta oppure addirittura vi fa pescare cinque carte edificio le guardate ne scegliete una e le altre quattro le rimettete in fondo al mazzo e quindi è un modo per fare un boost alla vostra mano di edifici magari avete tante risorse e non avete la carta giusta ecco in questo modo magari se siete fortunati vi può uscire una carta edificio importante e poi c'è l'ultimo slot che è questo qui qui pagate appunto come abbiamo detto tre monete e una reputazione e guadagnate le risorse che sono specificate qui nel mercato grande che succede quando tutte e tre gli slot sono pieni quando tutte e tre gli slot sono pieni si fa il reset del mercato nero vedete è specificato anche da questa grafica cioè quando sono tutte e tre slot pieni c'è questa borsa nera con le frecce che indica un reset del mercato nero il reset del mercato nero innesca tre cose fondamentali la prima cosa è che praticamente tutti i lavoratori che sono nel mercato nero vengono presi e finiscono nella torre delle guardie quindi vengono messi qui ancora la prima carta del mercato piccolo viene presa girata mercato grande viene posizionata sopra l'altra del mercato grande ed infine si innesca questo riquadro qui della torre delle guardie che è un metodo di interazione diretta molto importante tra i giocatori di cui parleremo tra poco è infatti nella casa delle guardie che vengono venduti per esempio i lavoratori degli altri per guadagnare monete come specificato qui in questa prima azione e ovviamente si innescano tutta una serie dei malus poi a reset del mercato nero ma andiamo con ordine come si fa a vendere praticamente e a catturare i lavoratori avversari per esempio mettiamo che nella foresta abbiamo due lavoratori rossi un lavoratore blu guardate che i lavoratori sono 20 e sono limitati che vuol dire che una volta che li ho finiti io non posso più fare azioni anzi quando non ne avete più nella vostra riserva il gioco vi consente di predevarne uno da un luogo dove avete i lavoratori l'importante è che il luogo non sia né il mercato nero ovviamente né qui dentro la guard house e né la gildal questa è qui la sala della gilda ovviamente da questi luoghi non possono essere presi e perdete il turno una volta preso e poi dopo avete disponibile un altro lavoratore per metterlo ma in realtà per restare senza lavoratori un modo per recuperarli è sicuramente quello di andare qui nella centro della città come si fa io metto un lavoratore e poi come vedete la grafica qui mi dice che devo pagare una moneta che va nell'ufficio delle tasse per catturare praticamente un gruppo di lavoratori di un altro colore un solo colore in una location beh in realtà qui il manuale dice che potete catturarlo anche da due location diverse se giocate fino a tre giocatori da quattro giocatori in su potete catturarli solo in una location questa è una partita a due giocatori quindi potreste catturarli da due location diverse che vuol dire un solo colore che io per esempio con un lavoratore qui pagando la moneta alle tasse potrei recuperare i miei due lavoratori e rimetterli nella riserva o potrei catturare per esempio il lavoratore blu e lo metto nella mia prigione qui sulla mia plancia dove resta fino a quando non vado alla guard house per venderlo se metto invece un altro lavoratore qui nel centro facciamo un altro esempio posso fare così pago una moneta all'ufficio delle tasse e poi devo avere come vedete un altro lavoratore e pagare un'altra moneta che va alla riserva per catturare un altro gruppo di lavoratori in questo caso che è una partita a due giocatori posso prenderli da due location diversi altrimenti in una partita da quattro giocatori in su posso solo prenderli sempre dalla stessa location quindi in questo caso posso prendere da due location diversi un colore solo e potrei recuperare i miei tre lavoratori che tornano nella mia riserva e questo è un modo chiaramente molto utile per recuperare i lavoratori e restarne senza ovviamente conviene anche catturare quelli degli altri perché poi quelli che abbiamo qui nella prigione possono essere venduti qui nella guard house e adesso vediamo come piccola precisazione chiaramente voi potete recuperare i vostri lavoratori anche dal centro della città nel senso che se io mi metto qui la location da cui voglio recuperare i lavoratori può essere anche questa stessa dove mi sono appena messo e quindi recuperate anche il lavoratore appena posizionato cosa succede a questi giocatori rapiti fondamentalmente ai lavoratori rapiti degli altri giocatori ecco questi qui si possono andare a vendere praticamente li denunciamo e prendiamo una ricompensa se io mi metto qui nella guard house vedete che ci sono tutta una serie di azioni che si possono fare e questa guard house funziona un po' come l'ufficio il magazzino del re nel senso che posso fare una o più azioni di queste a seconda del numero dei lavoratori che ho qui con un solo lavoratore ne posso fare una sola vedete sono divise dal orno quindi ho questa ho questa ho questa oppure con due lavoratori potrei farne due tra queste anche ripetere eventualmente la stessa allora quali sono le azioni la prima azione ovviamente è inviare i prigionieri che abbiamo sulla nostra plancia qui nella guard house e prendere una moneta per ogni prigioniero in questo caso io ho un prigioniero blu nella mia plancia lo porto qui e recupero una moneta chiaramente vi conviene accumulare più prigionieri in modo da monetizzare di più ma soprattutto anche per bloccare molti più lavoratori avversari anche se attenzione perché adesso vedremo che c'è un modo per l'avversario di liberarli seconda azione potrei eventualmente liberare dei miei lavoratori che sono nella guard house facciamo un esempio se questi tre lavoratori sono qui con questa seconda azione io potrei recuperare tutti i miei lavoratori e portarli nella mia riserva è un modo insomma per liberare la guard house dai vostri lavoratori terza azione terza azione è un'azione importante perché permette di o pagare cinque monete di cui due alle tasse oppure prendere un certificato di debito se non avete le monete quindi beccate uno di questi e perdere un punto reputazione per liberare i vostri lavoratori non dalla guard house attenzione ma dalle prigioni sulle planche avversarie ecco con quell'azione mettiamo che io avevo qui altri tre prigionieri blu il blu avrebbe potuto liberare i suoi lavoratori e portarli qui e quindi toglieva al rosso la soddisfazione di andarli a vendere alla card house per guadagnare dei soldi ultima azione è pagare sei monete di cui tre alle tasse ovviamente se non avete una cattiva reputazione altrimenti come abbiamo visto prima la cattiva reputazione permette di risparmiare i soldi alle tasse per girare un vostro certificato di debito quindi se avete un certificato di debito non pagato potete girarlo lo stracciate e guadagnate un punto reputazione questo vi costa la bellezza di sei monete d'oro normalmente prima vi ho detto che quando si resetta il mercato nero come si vede anche da questo sacchettino con le frecce si attiva questo riquadro ecco questo riquadro è molto importante perché crea dei malus molto potenti quando si resetta il mercato nero si contano i lavoratori che sono nella guarda os nella torre di guardia se ci sono almeno tre lavoratori si perde un punto reputazione attenzione che se ci fossero per esempio sei lavoratori rossi il rosso perderebbe due punti reputazione se ne avesse nove nella guarda os ne perderebbe tre in questo caso abbiamo quattro blu e tre rossi quindi perdono un punto a testa un punto è blu e un punto è rossi poi il secondo che è ancora più cattivo dice che chi ha più lavoratori imprigionati all'interno della guarda os prende un certificato di debito in questo caso il blu ne ha quattro e il rosso ne ha tre quindi il certificato di debito va al giocatore blu ecco questo crea un'interazione cattiva tra i giocatori perché si può decidere eventualmente di resettare il mercato nero tenendo un occhio alla guardaos per cercare di massimizzare i danni verso l'avversario quindi attenzione ai reset del mercato nero perché avvengono come abbiamo detto quando questi tre slot sono pieni ma anche come vedete qui quando si piazza un lavoratore a partire dalla terza e quarta fila quindi a poco a poco che io costruisco cattedrale e mi gioco edifici riempirò questi spazi fino a due giocatori ovviamente riempirò solo i primi tre spazi da tre giocatori in su riempirò questi spazi quattro giocatori cinque giocatori arriverò fino alla fine della fila e quindi a mano a mano le file si riempiranno quando arrivo a mettere il lavoratore qui dove c'è il simbolo del sacchetto con le frecce vuol dire che si resette il mercato nero e questo può essere per esempio un ottimo momento per arrecare danno all'avversario magari se nella guarda ci sono tanti tanti suoi lavoratori queste sono tutte le location adesso andiamo ad analizzare un pochino le carte allora le carte sono fondamentalmente di due tipi abbiamo gli apprendisti adesso andiamo ad analizzare una carta apprendista e poi gli edifici allora gli apprendisti hanno un simbolo in alto a sinistra questo è il simbolo dell'apprendista e questi simboli sono importanti perché alcuni edifici o alcuni bonus possono essere presi solamente se avete il simbolo corrispondente alcuni edifici magari vi dicono che dovete avere il simbolo del martello anche oltre alle risorse per farlo oppure il simbolo dell'ascia o addirittura il simbolo dell'ascia al martello anche oppure della spatola insomma vedremo poi con le carte edificio che anche i simboli sopra le carte apprendista sono molto importanti l'apprendista poi ha il nome chiaramente qui a sinistra e tutti gli apprendisti sono ben spiegati a parte qui nel modulo di tabletop ma anche dal manuale c'è ovviamente un piccolo manuale dedicato solo agli apprendisti e ve li spiega nel dettaglio e c'è addirittura un piccolo modulo che vi spiega tutti gli edifici che possono essere costruiti quindi insomma veramente il manuale è fatto molto molto bene allora vedete che poi sotto c'è un effetto degli apprendisti quando vedete questo fulmine è un effetto immediato che vuol dire che in questo caso se io prendo l'illusionista la prima cosa che avviene è quella là del fulmine quindi con l'illusionista io perdo una reputazione però poi vedete che l'effetto di sotto avviene sempre nel luogo che è scritto qui che è scritto in questo riquadro in basso qui c'è scritto black market e poi c'è ovviamente una reputazione persa con una x che vuol dire che io se ho l'illusionista tra i miei apprendisti ogni volta che vengo al mercato nero vedete che qui in ogni posizione dovrei perdere una reputazione l'illusionista chiaramente non me la fa perdere e quindi posso andare al mercato nero pagare solo le monete ma non perdere reputazione chiaramente l'illusionista fa dei giochi magici e non fa capire quello che succede vedete che però alcuni luoghi non hanno alcuni apprendisti non hanno un luogo specifico dove avvengono i bonus per esempio diciamo quello che colleziona i debiti l'esattore ecco l'esattore non mi viene il termine in italiano l'esattore vedete che vi permette ogni volta che pagate un debito questo simbolo e quando girate la carta debito di guadagnare immediatamente due pietre in questo caso se voi aveste tanti debiti l'esattore non sarebbe male come apprendista perché ogni debito pagato vi dà due pietre il minatore per esempio vedete qui c'è scritto nella miniera vi dà un mattone in più quindi ogni volta che io vado nella miniera invece di avere solo questo cioè un mattone di base più un mattone per ogni lavoratore qui ottengo un mattone aggiuntivo questo addirittura quando vado a rubare nel palazzo delle tasse mi permette di guadagnare anche un oro questo quando costruisco la cattedrale mi dà due due argille due mattoni quest'altro invece ogni volta ogni volta che c'è un reset del mercato nero se io non ho lavoratori miei qui all'interno del palazzo delle guardie vedete come c'è scritto qui 0 se io ne ho 0 guadagno addirittura un marmo e invece quest'altro il mercante mi permette quando visito il magazzino del re di avere addirittura un'azione in più oltre a questa e questa potrei usufruire di questa cioè pagare 3 monete e guadagnare un marmo quindi gli apprendisti danno dei bonus molto potenti ed è molto molto interessante cercare di bilanciare i vari apprendisti che avete ovviamente a seconda della vostra strategia veniamo alle carte edificio le carte edificio hanno un lato sinistro che vi dice i requisiti che dovete avere per costruire l'edificio vedete che per costruire il palazzo dovete avere un apprendista con la spatola un apprendista con il martello e queste risorse cioè 3 legni 3 pietre 2 marmi in alto a destra avete il valore di punti che vi frutta l'edificio alla fine della partita chiaramente costruire gli edifici con il valore più alto costa di più e quindi dovete cercare di bilanciare un po' la vostra strategia però vediamo poi all'effetto di sotto vedete dove c'è il fulmine è un effetto immediato e praticamente il palazzo vi permette di prendere un oro ogni 4 punti reputazione mentre la la sala qui di disegno vi permette di pescare 2 nuove carte edificio il mercato delle pietre invece vi dà dei punti a fine partita di solito quando vedete questa bandierina qui indica sempre qualcosa che avviene a fine partita a fine partita se voi solo voi non vale anche per gli altri se voi avete più pietre degli altri guadagnate 2 punti in più quindi i palazzi sono veramente importanti da costruire in più ogni volta che volete costruire un palazzo dovete mettere un lavoratore qui e chiaramente più palazzi verranno costruiti e più il gioco tenderà a finire guardate che il gioco all'inizio sembra lento in realtà è un gioco molto veloce perché pensate che ogni giocatore ha un'azione da fare e una volta che avete ben chiara la vostra strategia e avete ben chiari i luoghi sulla mappa è chiaro che non ci mettete nulla mettete lì e dice io prendo due monete oppure io prendo le argille e così via a mano a mano vedrete che all'inizio ovviamente si costruirà poco ma verso la fine soprattutto dalla terza fila in poi il gioco andrà a terminare sempre più velocemente perché tutti inizieranno a costruire sempre di più tutti vorranno salire nella costruzione della cattedrale e ovviamente il tempo del gioco andrà a finire ultima cosa interessante del tracciato della reputazione che forse non vi ho detto è che ovviamente se andate in basso perdete i punti dal livello 4 vedete non potete più costruire la cattedrale dal livello 4 in giù quando siete a livello 0 e qualche luogo vi dice di perdere reputazione non scendete più in basso chiaramente ma come sta scritto qui se dovete perdere altre reputazioni già siete al minimo della reputazione invece di perdere reputazione come sta scritto qua prendete una carta debito andando a salire invece vedete che da livello 10 c'è il sacco nero del mercato nero barrato vuol dire che da livello 10 in su non potrete più andare a visitare il mercato nero siete troppo virtuosi avete troppa reputazione eccetto uno che ha la reputazione come la vostra non va al mercato nero se siete al massimo e dovete prendere altra reputazione non ne prendete ma al contrario di quello che abbiamo detto prima potete pagare un debito quindi ogni punto reputazione in più oltre al massimo vi permette di cancellare una carta debito quindi tracciato di reputazione è anche molto importante da tenere d'occhio e veniamo alla fine della partita allora come è riepilogato qui sulla vostra plancia alla fine della partita si contano i punti allora dovete contare i punti dati dagli edifici vedete c'è il punto interrogativo che chiaramente non sanno quanti edifici e quali avete giocato i punti dati dalla cattedrale perché ovviamente a seconda di dove sta il vostro standardo prendete tot punti poi dovete calcolare i punti dati dalla reputazione anche qui dove si trova il vostro standard ad esempio se fosse stato qui avrei aggiunto altri 5 punti oppure li avrei tolti a seconda di dove sta la reputazione i punti negativi date dalle carte debito ogni carta debito non pagata vi leva 2 punti un punto fate un punto per ogni risorsa oro o risorsa marmo accumulata fate un punto ogni 10 monete e perdete un punto ogni 2 lavoratori che si trovano qui nel palazzo delle guardie alla fine della partita quindi un punto ogni 2 lavoratori si fa il totale e chiaramente chi ha più punti vince in caso di pareggio che succede che chi ha più reputazione vince quindi lo spareggio è dato alla reputazione quindi mi raccomando con la reputazione che è abbastanza importante anche per lo spareggio e questo è Architetti del Regno Occidentale il primo titolo della trilogia e devo dirvi la verità sembra complesso ma veramente molto molto semplice è un classico piazzamento lavoratori poi tutto è perfettamente spiegato dai simboli che non sono neanche molti e sono anche molto comprensibili e la cosa molto interessante di questo gioco è che è un gioco veloce nel senso che una partita a 4 giocatori se siete proprio bravi e già sapete giocare ma secondo me può durare anche un'ora e mezzo e poi la cosa interessante è che ci sono tante tante strade per arrivare alla vittoria una delle ultime partite che abbiamo fatto è stata davvero interessante perché ognuno cercava una sua strada chi prima è andato giù con la reputazione e poi è salito chi invece cercava di costruire più cattedrali chi ha costruito invece più edifici rispetto agli altri chi accumulava risorse insomma veramente ce n'è per tutti i gusti è un gioco veramente ben fatto che consiglio a tutti e spero che possiate con questo tutorial intavolarlo quanto prima come al solito i nostri tutorial sono un po' lunghetti ma spero il più esaustivi possibili quindi una volta visti dovreste sapere giocare detto questo io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial di Six Sides in Mind ciao a tutti